Grazie. Grazie a tutti. Sono emozionato ragazzi, giuro. Dopo 23 anni di carriera mi avete fatto riemozionare. Quindi se ci può raccontare questi giorni e soprattutto se pensa da questi primi giorni che questa è la squadra più forte che lei abbia mai allenato. Allora, sicuramente sì, parto dalla fine così. In questi giorni poi devo stare attento a come parlo perché sono famoso per lamentarmi. Quindi ora c'è un altro Mazzarri. Non mi lamento più. Quindi sono stato bene, ho dormito 12 ore al giorno. Non è stanco? Non sono stanco. Ora ero in campo un'ora e mezzo fa e mi hanno fatto fare la doccia con calma e sono venuto. No, davvero, è tutto bene. È vero. Il gruppo ha visto da fuori, è chiaro. Ho poi visto quello che hanno fatto con Spalletti, un capolavoro l'anno scorso. Era un piacere vederlo. Mi emozionavo a vedere il Napoli perché giocava bene in Italia, fuori. È stato, come si può dire, un qualcosa di bello davvero per tutti. Anche gli italiani, penso. Perché era un bellissimo calcio. I ragazzi giocavano bene. Grande organizzazione. Era un piacere vederlo. E' vero che quando ti vedi una scuola così, uno che ha fatto l'allenatore per 23 anni, spera di poterli allenare. Grazie al presidente che mi ha chiamato, penso di allenarli almeno fino a fine anno. Yolanda De Rienzo, Sport Italia. Salve mister, ben trovato e buon lavoro. Mi collego un po' alla prima domanda. Perché questo Napoli comunque viene da un momento difficile. E allora, quando si è incontrato con i ragazzi, con la squadra, che cosa vi siete detti? Vi siete dati degli obiettivi per questa stagione? Ma guardi, la cosa che penso sia abbastanza facile dire è che, essendo appunto uno che è 23 anni che è nel calcio, che anch'io, insomma, anche se non ho vinto Scudetti, voi sapete se ho vinto anche insieme a una Coppa Italia, che era una Coppa Italia dopo, mi sembra, 23 anni dove Napoli non vinceva niente. E ho visto cosa è successo dopo la vittoria che, anche quando ero io con la Juventus, se vi ricordate. È chiaro che a ragazzi ho detto che probabilmente una squadra che non è abituata a vincere Scudetti era quasi fisiologico che pagasse qualcosa quest'anno, ma anche perché inconsciamente i ragazzi stessi magari dicono siamo talmente forti che magari non rincorrono più l'avversario, i particolari che fanno la differenza in questo calcio moderno ancora di più perché io ho studiato tanto, perché mi voglio sempre aggiornare, ho visto che c'è stato un cambiamento di tante cose nel calcio negli ultimi 3, 4, 5 anni. E quindi era fisiologico e quest'anno sarebbe stato più difficile per chiunque. E quindi io sono venuto, e credo di averglielo già un po' accennato, per far sì che con la mia esperienza gli faccio capire i pericoli. Gli dico state attenti che per provare a rivincere le partite gli altri ci aspettano ancora più con attenzione e noi non bisogna sottovalutare niente. E questo penso sia il mio vero compito per provarci da qui alla fine per migliorare quello che stiamo facendo in questo momento. Giordano al Corriere dello Sport. Ciao Walter, ben trovato. Ciao, grazie. Che ti ha chiesto De Laurentiis? La Champions? Ma io dico la verità, ora voi ognuno poi... Io ho un rapporto con De Laurentiis, da quando me ne sono andato c'è stato l'equivoco per un paio d'anni, poi ci siamo risentiti e c'è stato un rapporto nel tempo talmente importante e bello, al di là che io sia, ora in questo momento, tornato a essere allenatore a Napoli oppure anche così in amicizia, che credo di poter dire ci diamo del tu. Cioè, c'è la stima reciproca, abbiamo chiarito quelle poche cose che c'erano da chiarire e mi sembra che c'è un rapporto talmente importante che non è che devo dirlo io. Chiedetelo poi quando volete a lui e penso che sia il primo a dirlo. Il rapporto? Poi non so se vuoi chiedermi altro. No, no, ma va bene così. Marco Azzi, La Repubblica. Eccomi qua. Bentornato innanzitutto. Eccomi. Allora, volevo chiederti, in che condizioni hai trovato psicologicamente e fisicamente la squadra visto che al di là delle difficoltà di prendere i campioni d'Italia in corsa c'è anche un calendario che è subito molto impegnativo. Sono nato per soffrire, ma noi abbiamo tanti perché... No, a parte gli scherzi. Anche il sei l'ho visto oggi, per la prima volta. Non è che posso dirvi tanto da un punto di vista. Ho parlato con quelli con cui potevo parlare quando sono arrivato, se non mi sbaglio, i titolari erano sette, otto, non mi ricordo. E ho fatto quello che sono, insomma, comunque un po' di esperienza ce l'ho anche nei subentri. Ho fatto quello che ho sempre fatto e ho pensato e credo che abbiano capito anche quello che gli ho già detto a quei pochi con cui ho potuto parlare che io sarò qui a vigilare sul, come dire, sul particolare, ecco, mi piace dire così. Quindi niente, ora poi ci sarà tempo di stare insieme, oltretutto giochiamo ogni tre giorni, staremo sempre di tiro, parlerò con gli altri, piano piano capirò meglio se quello che ho percepito è quello che poi è la realtà del futuro. Ciro Troise, Corriere della Sera. Mister, bentornato. Le chiedo, quale sono state le sue prime impressioni nel colloquio con Osimè e che incondizioni sta, visto che recupera da un infortunio? Ma Osimè ha avuto la sensazione di un ragazzo veramente stupendo. Ero in panchina, me lo sono visto arrivare, è stato molto solare. Ho la sensazione, poi lo sapete tutti, ma insomma anche se non ero qui, ha visto in televisione, è un generoso, è uno che al di là del successo personale, la prima cosa che gli interessa è vincere con la squadra e se c'è da correre fare anche qualcosa in più di quello che fa di solito un campione che fa gol, è il primo a farlo. Quindi ora sta rientrando, sono contento e niente, poi ripeto, l'ho visto anche lui poco, ora sarò più preciso fra un po' di tempo quando mi farete certe domande. Maurizio Niscita, La Gazzetta dello Sport. Ben trovato. Restiamo argomento centravanti perché nonostante Osimè non è al meglio, comunque ci sono due altre belle alternative di qualità. nella scelta di domani conterà più gli allenamenti che hanno fatto insieme oppure il tipo di strategia della partita, visto che sono due centravanti che hanno un'interpretazione completamente diversa del ruolo? Cosa influirà di più nella scelta? Vedi, quando tu mi fai queste domande, sapete, sono rimasto della stessa... Non mi piace dar vantaggio agli avvezzari, quali sia sia sia. Io sono due, lo sapete benissimo, Raspadori e Simeone hanno diverse caratteristiche. Raspadori è più tecnico, viene più incontro, manda più gli altri, mentre l'altro è più vicino a Osimè, lo sapete tutti. Quindi le mie valutazioni saranno fatte sia per questo ma anche per altri aspetti, ad esempio chi l'ho visto più fresco, domani lo vedrete, però come sempre questo credetemi, voglio avere vantaggi per noi. Quindi oltretutto loro sono una grande squadra, giocano a uomo e non voglio che un grande allenatore come Casperini abbia dei vantaggi. Raffaele Auriemma, Tutto Sport. Ciao Walter, piacere di ritrovarti. Volevo chiederti, seguendo il Napoli di queste prime 16 partite, si è avuto la sensazione di una squadra che non giochi sempre con la stessa intensità nel corso delle stesse gare. Ora è una questione di appagamento inconscio, è una questione di condizione atletica, quali di questi due motivi e se tu hai constatato questo, poi una battuta simpatica, come pensi di rispondere a quelli che ti danno l'appellativo di bollito? Bollito, se è buono lo mangio anch'io il bollito. Guardate, sono talmente esperto che non rispondo a queste sciocchezze, perché non mi interessa. La domanda quella seria qual era? L'ho fatta col bollito? Quella sull'intensità della squadra che sembra variare durante le partite. L'intensità della squadra sembra variare. Ragazzi, per dirvi le cose con più certezza, l'ho detto anche a Pondrelli, io da poco sono arrivato e c'avevo metà squadra e si è potuto fare partitine da dieci minuti perché non si poteva. Io, prima di tutto, se subentro a un allenatore che comunque ha un curriculum, una cadera, non critiquerò mai lui. Quindi, se permetti, prima di tutto in questo momento non sono in grado di dirti i motivi, se mai è come dici te. In più non mi permettere mai di criticare un allenatore che ha lavorato prima di me. Quindi dobbiamo aspettare, qualunque cosa veda, la serò per me e lavorerò con Pondrelli, eventualmente con la squadra. Auletta, Cronache di Napoli. Salve mister, bentornato. Per quanto riguarda il modulo, si ripartirà dal 4-3 oppure più avanti le vorrà, insomma, cambiare qualcosina, magari tornare anche alla difesa 3 che lei è... Dato che soppollito, io credo di essere uno degli allenatori, a come già non lo sanno, più ero considerato e credo tuttora uno che può fare qualsiasi modo e tante volte mi chiamano per fare lezioni agli altri. Quindi, poi, ho avuto la fortuna di stare un annetto fermo, un anno e mezzo, ho potuto studiare come gli allenatori che si aggiornano in continuazione. Quindi, io credo di sapere insegnare qualsiasi modo. Ora, come ho sempre fatto, quando avrò la conoscenza diretta della squadra, deciderò cosa è meglio. Sia di partita in partita e anche in generale. Quindi, non posso dirgli ora se giocherò sempre in un certo modo. È chiaro che una squadra, come ho detto prima, che ha dato spettacolo in tutta Italia e all'estero, di sicuro, la prima cosa che penserò di fare è farla giocare come era abituata a giocare. Poi, è andato via anche qualche giocatore che c'era l'anno scorso, pochissimi, e quando poi sarò padrone della situazione e sarò più preciso e lo vedrete di partita in partita quale modo lo farò e quale accorgimento prenderò. Silbermele, Canale 8. Eccoci qui. Ciao, mister. Bentornato. Intanto, questo ritorno a casa, se permetti, ti riconsegna un dato che sei l'allenatore più longevo della gestione dell'Aurentis, quindi avrai sicuramente maturato le tue sensazioni. Ma ti porto anche sulla partita di domani perché Gasperini dice per noi è sempre il Napoli un test di riferimento e non ti fai mancare niente perché in 17 giorni praticamente le metti tutte in fila, le più forti d'Italia e poi la Champions con il passo speriamo per gli ottavi. Sì, guardate, tanto ormai è inutile, sono esperto. Se voi vi ricordate, ora per non rispondere direttamente perché si sa tutti che sono partite importanti, difficili, un momento nostro delicato e basta. Io però mi sono trovato sempre bene quando mi sono buttato nella causa senza pensare alle conseguenze. Quando veni da voi, ero l'allenatore del momento, potevo andare da dove volevo, quasi, insomma. Quando mi chiamò De Laurentiis sono venuto, se voi vi ricordavate, in base al valore di quel tempo della squadra, avevo delle partite proibitive, a parte il Bologna in casa che poi vinceva all'ultimo secondo, c'era Firenze che non vinceva il Napoli da 21 anni, c'era il Mila che poi si andava con la Juventus che era 22 anni che ci hanno fatto anche un libro. Quindi se mi fossi prosto il problema a quei tempi non sarei venuto a Napoli. Dicevo, aspetti Presidente, vengo fra un po'. E ora mi sembra una situazione in base alla forza e all'evoluzione di questo grande club più o meno simile, no? Quindi, se è andata bene quella volta, bisogna essere positivi e si spera che vada bene anche questo. Marotta, il mattino. Mister, buonasera. Buonasera. Ho notato che ha fatto molto spesso riferimento alla storia, 23 anni che fa l'allenatore, 23 anni della Coppa Italia che il Napoli non vinceva. Gli obiettivi a fine stagione, se le posti, le chiesi dell'Aurentis, la vetta della classifica è così distante e il Napoli può ambire allo scudetto? Quando tu entri in un momento così delicato non puoi pensare a dare degli obiettivi. Chi conosce Mazzarri sa benissimo che la prossima partita è quella da fare alla morte, migliorare la squadra, creare sempre più entusiasmo, cercare di lottare per 90 minuti e alla fine tireremo le somme. Io penso così. Oltretutto, sapete che calendario c'è, in questo momento bisogna pensare solo a risolvere gli eventuali problemi che ci sono nella squadra rispetto all'anno scorso. Ecco, questa è la cosa più importante. E la prima verifica sarà proprio domani perché è una delle partite più difficili. loro fanno un tipo di calcio che per nessuno è facile affrontare l'Atalanta perché ti vengono a marcare a uomo a tutto campo, sono fisici. Quindi già il primo test. Poi, per me è come una raccolta dati. Dopo l'Atalanta sarò più cosciente ancora di come ho palpato questa squadra. Io la vedevo in televisione, non ve lo scordate. Se non le alleni le squadre non puoi avere la vera percezione del valore, anche del singolo giocatore, del ruolo, delle sfaccettature che solo gli allenatori che allenano possono vedere. Titti in prota, Canale 21. Eccoci qua, bentornato. Ho capito il suo ragionamento, però le vorrei dire che alcuni giocatori, prima che lei arrivasse, erano tornati a parlare di Scudetto. Nella testa di questi ragazzi è ancora possibile o impossibile, nonostante la distanza in questo momento dalla vetta, pensare allo Scudetto? Guardi, vi faccio una semplice risposta. Se non si comincia a rivincere, cosa pensa lo Scudetto? Pensiamo a vincere, cioè l'ultima è stata persa e siamo in questo momento a dieci punti dalla vetta. Che senso ha parlare, dire a voi, fare proclami? Cominciamo a vincere le partite. Ora c'è l'Atalanta, una delle squadre più forti, più difficile, domani è un test. Poi di volta in volta si penserà a guardare in avanti, ma ora pensiamo a rivincere e a non perdere in casa oppure anche fuori. Questa è la risposta penso semplice. Miranda, Radio Kis Kis. Mister, sono qui. Bentornato innanzitutto. Nella soppassata esperienza a Napoli trasformò Cavani in una vera e propria macchina da gol. Adesso la macchina da gol lei ce l'ha già a disposizione è Vittor Rosimène. Se vedete le somiglianze tra i due, più che a livello tattico perché comunque ha avuto pochi giorni per valutarlo, anche a livello caratteriale, quella voglia di vincere, quella voglia di segnare. Visto da fuori dico la verità sembra davvero simile. È proprio oggettivamente visibile questo perché ho visto un ragazzo in televisione e ora ci ho parlato due minuti, non è che posso sapere ora man mano che l'allena erotmica mi rendono ancora meglio di tutto. Però a vederlo da fuori anche Cavani quando oltretutto aveva un feeling con l'allenatore vedete le squadre devono avere un feeling con l'allenatore per dare anche qualcosa di più di quello che è il ruolo perché quando tu hai un rapporto all'allenatore e gli vuoi bene lo stimi corri anche per lui perché a volte sembra ma è così mi creda ormai non ho passato tante è proprio così l'ho constata e vedevi che Cavani quando con me aveva un rapporto l'avevo voluto l'avevo allenato l'avevo migliorato si diceva è di corri e rientra per la squadra siamo in difficoltà e lui rientrava e Osimenda ha la stessa sensazione è chiaro che non sono io a Dindra o perché qualcuno glielo ha già detto e lui lo sente hanno lo stesso tipologia di gioco ecco in questo momento questo è vero Da qui Petino Ussi Ben trovato Mazzari anche da parte Lussi la stampa sportiva italiana i saluti del presidente nazionale Coppola che adesso è fuori Italia ma che vorrà salutarlo allora ne ha parlato di feeling questa squadra tra i feeling che ha perso è quello con lo stadio Maradona paradossalmente ha avuto delle enormi difficoltà in casa se lei pensa a ristabilire questo feeling se pensa anche al suo esordio poi se è possibile quando ha visto la maglia azzurra con lo scudetto su lei che cosa ha pensato guardi l'ho detto parto dalla fine voi mi conoscete io sono uno che le sviolinate non riesco a farle forse è anche un mio difetto perché in questo mondo tanti sono molto più bravi di me io Napoli per me è casa mia l'altro giorno gli dico un aneddoto tanto è venuto il presidente dentro il mio spogliatoio penso di averlo visto io e pochi altri mi ha fatto vedere uno spezzone del film che uscirà mi arrivano ancora i brividi a vederlo eppure io non ero l'artefice la stessa sensazione la provai quando vincevamo la Coppa Italia noi che tornavamo da Roma eccetera mentre vedevo il film se ne è accorto anche c'erano altri due o tre della società che mi venivano i brividi mi venivano la pelle d'oca quindi che devo dire più di così non ho parole sono entusiasta di essere qua sapete perché andavi a quel momento e poi ve l'ho detto ma da quel momento fino ad ora per dire in Toscana i napoletani che ho incontrato hanno sempre dimostrato affetto verso me si ricordano ancora il mio Napoli quindi poi non ricordo che mi vorrà chiedere San Paolo ecco qui lo sa io sono andato via avevamo fatto tanto perché a quei tempi arrivare i secondi e partire dove la trovai io la squadra credo che questo è un merito che mi prendo che il Napoli attuare la grande scalata che ha fatto la società dei laurenti e tutti quelli che lavorano per lui è partita da me perché con Cavani si valorizzò quindi e loro sono stati bravi a migliorare sempre ogni anno e in Maradona io ho sempre avuto un bel feeling è chiaro che è uno stadio importante qui è una piazza grande qui c'è stato Maradona e quindi vede quando poi arrivano risultati belli e clasanti c'è anche il contrapasso perché poi quando giochi male o quando fai un po' meno sei criticato ma fa parte del gioco di una grande piazza il Napoli è una grande piazza e in particolarità da quando c'è il presidente da quando c'è questa società è ritornata ai fasti perché è rispettata in tutta Europa quindi è una soddisfazione ma al tempo stesso sappiamo tutti che allenare Napoli è una grande responsabilità in questo momento ultime due Napoli Magazine Petro Azzolo eccomi eccomi ben ritrovato ciao grazie dove eravamo rimasti da dieci anni la curiosità che ti chiedo i tre tenori no? quindi torniamo un attimo indietro hai detto di Osimen con Cavani Amsic magari potrebbe essere Zielischi Kvara il tuo pocio cioè come raffronti oppure pensi di cambiare qualcosa perché si è detto prima del modulo ma non avresti problemi nemmeno a passare altri 4-3 come faceva Spalletti piuttosto guardate ora vi voglio dire una cosa semplice perché non voglio fare maestro perché mi porta questo è il mio mestiere se voi pensate anche alla regina quando ho fatto le cose migliori eccetera quando attaccavamo eravamo 3-4-3 l'ha detto lei c'era il tenore anzi che fase difensiva si abbassava un po' ma quando attaccavamo era la mezza punta di destra la vezza a sinistra Cavani 4 centrocampisti e 3 difensori no? se voi pensate il 4-3-3 perché vi dico da sempre il mio modulo preferito c'è tanti movimenti mi piace se voi prendete un centrale delle mie ex squadre se voi vi ricordavate ogni tanto levavo quando non vincevamo levavo un difensore mettevo Berami davanti alle fece e facevo sempre il 4-3-3 per vincere nel finale perché bastava levare un centrale e mettere Berami un pochino più basso che poteva essere un centrale davanti alla difesa come è Lobotca ora se voi prendete un centrale lo alzate di 10 metri è lo stesso modulo gli stessi movimenti dei trequartisti quindi quando vi dicevo il 4-3-3 la difesa a 4 per me andrebbe bene è chiaro che un allenatore come me che ha sempre cercato di fare risultati che poi alla fine si chiacchiera però bisogna fare risultati se avevo dei giocatori che non erano veloci dovevo fare in modo di avere una protezione sulla profondità e quindi andavano in anticipo in due e mi conveniva stare a tre però poi quando c'è stata la possibilità e l'ho fatto anche qui diverse volte non vincevamo eravamo diventati una squadra di vertice il secondo tempo levavo un centrale che ne so Gamberini mi viene in mente e Berami stava un po' più basso e facevamo il 4-3-3 mettendo un attaccante in più o qualcun altro non è mai stato un problema questo ultima Claudio Russo Calcio Napoli 24 eccomi bentornato due velocissime ha fatto il paragone le similitudini tra Cavagno e Semen se rivede le stesse similitudini tra Kvarazkelia e Lavezzi la seconda ma in corso dieci anni fa quando la Cielo Napoli sperava di tornarci un giorno di avere qualcosa ancora da completare dopo aver fatto già tanto grazie questa è una domanda che mi sono fatta anch'io quando decisi che era finito il mio ciclo secondo me quando arrivi secondo e finora non mi ricordo venimo da una partita di Champions e perdemmo una partita nefasta a Chievo e la Juventus inizia l'ultimo minuto del Catania andò a 6 punti io dentro di me ho detto è difficile se non facciamo in quel momento un salto di qualità sugli acquisti sui giocatori già fatti è difficile poi mi conoscono la maggior parte della Rosa è quattro anni che l'alleno è normale che dopo un po' ti prendano le misure e stimolarli l'avete visto quest'anno già vittoria dello Scudetto manca un giocatore o due sono andati via è stato difficile iniziare un anno nuovo qua si è visto già io ero il quarto anno e poteva essere il quinto e dovevo arrivare sicuramente più del secondo posto questa era la domanda da fare che mi sono fatto in quel momento e ho pensato che non sarebbe stato facile in quel periodo storico ok questo è un po' il discorso Cavara 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 ecco ora non è facile se un discorso di carattere Cavani Osimè Cavara l'avezzi ho capito ti stavo di ancora sono interprete bravo è diverso se lei mi chiede la posizione è uguale caratteristiche diverse a distanza di anni è diverso perché l'avezzi le faccio un esempio i due centravanti si muovevano davanti ogni tanto uno faceva la corsa non è facile spiegare l'avezzi era uno che non rientrava come fa Cavara quindi non può essere paragonato è un calcio diverso un modulo diverso io io lo tenevo sempre alto perché era uno che doveva stare alto perché non aveva voglia di rientrare ma non aveva no non aveva no non aveva il fiato se ve lo dio un parola povere se no le qualità organiche per fare tutta la pace se lui lo faceva rientrare scoppiava a quei tempi era diverso tutto ecco perché se mi chiedete un discorso fra giocatore e giocatore sono diversi come ruolo per quando si attacca come le vedete voi sono simili perché saltano tutte e due l'uomo la palla gliela dai ne saltano anche tre hanno controllo di palla capito che le volevo dire ecco perché ci ho pensato con Cavani e Rosimè era molto più facile fare il paragone grazie a tutti grazie 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 a tutti grazie a tutti